Vola a Palermo! Ciao, sono Antonio Giuliani, sono Pappappero, Dario Cassini, e sostengo S... Vola a Palermo! A S che sarebbe? SOS Scuola. La scuola è importante! Una quasi questione di pericolo, sono stato dimandato solo due volte e bocciato una, quindi sono seriamente affidabile. Vola verso la scuola! Fondamentale andare a scuola, la scuola è a Palermo. Vola a Palermo! Molto lontano dall'abito io, quindi nessuno lo verrà mai a sapere. L'importante è sapere, studiare, in realtà c'è la scuola, se non c'è starne la scuola, dove va una casa? La scuola è importante, è importante a Pozzola Civile! Bravi e veneziani! Evviva la scuola! Ha portato a Pozzola Civile la scuola! Evviva la scuola! E si è della Repubblica Marinara, non lo scordate! Viene se la scuola 35 cm, è a Pozzola Civile, chiama Sergio! SOS Scuola.